sempre più persone si domandano come mai non sono felici e cosa devono fare per poterlo diventare se anche tu almeno una volta ti sei chiesto non sono felice cosa devo fare per cambiare la mia vita allora questo video è perfetto per te ti spiegherò cosa devi fare esattamente in generale per aumentare la tua felicità devi eliminare tutti quei modi di fare di pensare che creano tristezza e trasformare delle abitudini tutti quei modi di fare che ti rendono più felice quindi il primo passo consiste nel capire esattamente quali sono quelle cose che facciamo e che ti portano a pensare che non sei felice il secondo passo consiste nell'individuare ciò che ti rende felice e trasformarlo in un'abitudine non devi commettere l'errore che il 99 per cento delle persone commette cioè quello di credere che si possa diventare felici grazie a qualcosa che si ottiene all'esterno maggior denaro una carriera migliore il trasferirsi in una città fidanzarsi con una determinata persona o avere una bella auto chi pensa che può essere felice grazie al cambiamento delle condizioni esterne commette un grave errore perché sta delegando la sua felicità all'esterno e quando la situazione esterna cambierà smetterà di essere felice quindi non commettere quest'idiozia non cadere in questa trappola e se vuoi diventare più felice lavora su di te sui tuoi modi di pensare e sulle tue abitudini partiamo dalla prima strategia sulla quale puoi focalizzarti per vincere la tristezza 1 trova qualcuno da aiutare se vuoi diventare subito più felice aiuta gli altri non puoi aiutare qualcuno senza che questo migliori anche te stesso e il tuo umore puoi donare la tua conoscenza il tuo tempo il tuo sostegno i tuoi vecchi vestiti i tuoi libri il tuo amore qualsiasi cosa ma più doni più diventi felice sforzati ogni giorno di trovare qualche persona ad aiutare e questo puoi farlo in molti modi diversi puoi ascoltare questa persona puoi dargli dei consigli puoi regalargli un libro puoi prenderti cura di lei puoi insegnargli qualcosa puoi ascoltarla davvero puoi parlargli gentilmente vedi tu il modo ma se ti focalizzi sul migliorare la vita delle altre persone stai automaticamente migliorando anche la tua punto 2 pratica la mindfulness è stato dimostrato scientificamente che la mindfulness cioè la capacità di vivere il momento presente senza giudicarlo porta innumerevoli benefici tra cui riduce lo stress aumenta la capacità di gestire le proprie emozioni negative migliora la concentrazione permette di rilassare il proprio corpo e la mente e aumenta la sensazione di felicità c'è nel libro il potere di adesso di Eckhart Tolle un ottimo esercizio che consiste nel portare tutta la propria attenzione sul respiro focalizzandosi sulla punta del naso dove l'aria entra ed esce bisogna solo osservare l'ispirazione e l'espirazione senza modificare la respirazione generale quindi si porta l'attenzione sul respiro ogni volta che ci si ricorda di farlo durante tutta la giornata questa semplice pratica è molto potente perché sposta l'attenzione della tua mente al tuo respiro quindi invece di dare attenzione ai tuoi pensieri negativi inizierai a dare attenzione al tuo corpo che è sempre nel presente mentre la mente vive nel passato nel futuro il corpo è sempre nel presente perciò se ti focalizzi sul corpo o sul respiro ti ancori al momento presente praticare la mindfulness con costanza ti permetterà di non dire più non sono felice perché l'infelicità viene creata da pensieri negativi dalle ossessioni dalle paure dai dubbi perciò se una persona impara a dare sempre meno ascolto a questo tipo di pensieri riuscirà a vivere nella gioia punto 3 molto importante focalizzati sul crescere continuamente in natura tutto ciò che non cresce muore e noi come esseri umani se smettiamo di crescere diventiamo infelici devi impegnarti ogni giorno per diventare una persona migliore impara nuove cose esci dalla tua zona di comfort sfidati troppo spesso le persone smettono di leggere dopo essersi laureate di aggiornarsi dopo aver trovato un lavoro di porsi obiettivi ancora più ambiziosi dopo aver ottenuto dei buoni risultati invece devi continuamente sfidarti crescere e migliorarti fare questo renderà la tua vita più interessante ti permetterà di essere costantemente entusiasta per ciò che stai facendo quattro sbaglia più spesso molte volte le persone sanno esattamente cosa dovrebbero fare per migliorare la propria vita ma non lo fanno perché hanno paura credono che sbagliare sia una cosa da evitare ma non è così la verità è che sbagliare fallire e non farcela possono essere i tuoi più grandi insegnanti ti indicano su cosa devi migliorare per avere successo tutte le persone che hanno realizzato grandi obiettivi hanno fallito spesso si sono rialzate hanno continuato a provare hanno capito dove hanno sbagliato e sono migliorate grazie a questo invece di guardare agli ostacoli alle situazioni negative presenti nella tua vita come a dei fallimenti inizia a considerarli come dei risultati cioè tu hai fatto determinate cose hai pensato determinate cose per produrre quel risultato ma se tu cambi le tue azioni cambierai anche quel risultato è importante capire che sbagliare è utile non aver paura del fallimento perché non puoi avere sempre successo perciò agisci se sbagli rialzati dov'è il problema punto 5 sconfiggi paure e pensieri limitanti un altro ostacolo alla nostra felicità è rappresentato dalle nostre paure risulta allora necessario affrontare tutte le nostre paure dalla più piccola alla più grande in particolare ci sono due tipi di paure quelle legate alla nostra sopravvivenza che sono utili per noi e quelle che sono assolutamente immaginarie quelle le dobbiamo imparare ad affrontare punto 6 capisci cosa vuoi davvero dalla vita la nostra società la religione i nostri genitori le persone intorno a noi o i personaggi famosi ci impongono degli schemi molto rigidi e degli obiettivi ben precisi a cui uniformarci come ad esempio studiare all'università trovare un lavoro sicuro sposarsi e mettere su famiglia comprare dei vestiti alla moda comprare l'ultimo modello di telefonino prendere un mutuo e comprare casa eccetera il problema è che tutte queste influenze che vengono dall'esterno molto spesso non si conformano con ciò che noi vogliamo veramente con ciò che è la nostra vera natura facciamo nostri degli obiettivi che non ci appartengono e continuiamo a procedere verso una direzione che in realtà non ci rende in alcun modo felici e non è quello che vogliamo bisogna tenere in considerazione l'opinione degli altri col massimo rispetto però bisogna ascoltare se stessi e soprattutto la voce più profonda di noi che cos'è che ci rende davvero felici noi non possiamo essere utili agli altri non possiamo essere davvero produttivi se non stiamo facendo qualcosa che ci appassiona se non abbiamo migliorato il rapporto con noi stessi per essere più felice quindi è necessario che tu entri in contatto con te stesso con la parte più vera di te e che scopri cosa vuoi davvero dalla vita per poter raggiungere tale risultato magari dovrei scavare a fondo ma al tempo stesso devi imparare anche a fregartene del giudizio degli altri la paura del giudizio degli altri nasce dal fatto che una persona giudica costantemente e più una persona giudica più per una legge psicologica deve sentirsi giudicato dagli altri quindi se lavori sull'eliminare la lamentela riuscirai a fregartene del giudizio delle altre persone quindi la cosa importante è che ti sforzi di vivere una vita in cui tu ti riconosci scegli di perseguire degli obiettivi che siano utili sia a te ma anche a delle altre persone ma naturalmente non puoi perseguire obiettivi a lungo termine che ti hanno imposto altre persone o che ti ha imposto la società perché se lo fai se persegui questo tipo di obiettivi difficilmente puoi diventare più felice